La colonizzazione culturale ed ideologica che può portare a perseguitare un popolo è un peccato grave, una bestemmia contro Dio perché distrugge ogni cosa, radia al suolo tradizioni, storia, religioni, mira a fare tutto uguale ed è incapace di tollerare le differenze. Il Papa Santa Marta, commentando il brano biblico del martirio di Eleazzaro, si è soffermato sui tanti esempi vecchi e nuovi di colonizzazioni culturali, come i genocidi del secolo scorso, ribadendo che essi sono frutto di una radice perversa, ma ha affermato Bergoglio, non tutte le novità e i cambiamenti sono cattivi, alcuni arrivano dallo Spirito Santo, perciò è bene affinare il discernimento e ricordare che la novità di Dio non fa mai mescolanze né negoziati, è una radice buona che fa crescere e guarda il futuro. Le colonizzazioni ideologiche e culturali soltanto guardano il presente, rinegano il passato e non guardano il futuro. Vivono nel momento, non nel tempo e per questo non possono prometterci niente. e con questo atteggiamento di fare tutto uguale, tutti uguali e cancellare le differenze, commettono, fanno il peccato brutissimo di bestemmia contro il Dio creatore. Ogni volta che arriva una colonizzazione culturale e ideologica si pecca contro Dio creatore perché ci vuole cambiare la creazione come l'ha fatta Lui. contro questo fatto che a lungo della storia è accaduto tante volte soltanto c'è una medicina, la testimonianza, cioè il martirio. Grazie. 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 Grazie.